Amici di Legnano Web TV, questa sera siamo in compagnia di Gian Battista Fratus, che è capogruppo della Lega Nord al Consiglio Comunale di Legnano e consigliere provinciale con Delega all'Alto Milanese. La sua funzione stasera sarà abbastanza ardua, spiegare a noi che cosa sta succedendo con la città metropolitana, un argomento che crea abbastanza confusione ed è abbastanza caotico in effetti. Innanzitutto buonasera. Buonasera a voi e grazie dell'opportunità di spiegare che cosa sarà la città metropolitana. Beh, dall'ultimo decreto del 188 e del 5 di novembre, io oggi per me la città metropolitana non è nient'altro che la provincia che cambia nome, non ha quella rivoluzione che personalmente avrei desiderato che ci fosse e che era stata prospettata. Se poi questo viene fatto per i risparmi, perché il principio è quello di risparmiare, beh, a parte il fatto che sono completamente contrario, perché una riforma costituzionale non la si fa per risparmiare, ma la si fa per portare migliorie al territorio. E qualsiasi riforma, sono anche dell'idea che qualsiasi riforma costituzionale abbia bisogno di finanziamenti per essere messi in pratica. Un esempio stupido, quando un'impresa vuole lanciare sul mercato un prodotto, prima si finanzia questo prodotto e poi quando il prodotto è pronto, è studiato e viene messo sul mercato, si hanno i riscontri e quindi anche gli utili. Possiamo dare per scontato che la città di Legnano entrerà nella provincia metropolitana, comunque perché nella città metropolitana? Perché se ne è discusso molto a lungo, entra o non entra, alla fine appare chiaro che la vecchia provincia di Bilano diventerà tutta città metropolitana. Detto questo, parliamo di tempi, quando è che la città metropolitana diventerà effettiva? Quando entra in vigore la città metropolitana, con il primo di gennaio del 2013, l'assemblea dei sindaci, convocata dai due presidenti dell'attuale provincia e dal sindaco di Milano, dovranno riunirsi per costituire un tavolo per poter fare lo statuto, che deve essere pronto entro il 30 ottobre del 2013. Una volta stabilito lo statuto che regolamenta la città metropolitana, si attempo da ottobre a dicembre alla sua conversione, alla sua approvazione. Una volta approvata, col primo di gennaio del 2014, avremo tutti effetti la città metropolitana. Torno a ripetere, il decreto è molto confuso e ha in sé anche alcuni atti, secondo me anticostituzionali, come l'eliminazione delle giunte, il fatto che non ci siano più delle giunte, il fatto che le deleghe vengono date a dei consiglieri che gestiscono il territorio senza avere nessun potere decisionale. Cioè gestire un territorio di 188 comuni più una città di Milano, quindi parliamo quasi di 4 milioni di abitanti, in un modo come se fosse un consiglio di amministrazione di un'azienda, mi sembra un po', così come è strutturato oggi, mi sembra molto ma molto difficile. Ma soprattutto non si capiscono quali sono le competenze, quali sono i rapporti che potrebbe avere una città come Legnano o un piccolo paesino come nosate di 600 abitanti nei confronti della città base che è Milano. A meno che andiamo a sciogliere anche il comune di Milano, facciamo i cosiddetti municipi, non avremo più Milano, ma avremo una città metropolitana a cui daremo un nome che troveremo nello statuto. Molti cittadini mi chiedono, ma io se devo fare la carta d'identità poi devo andare a Milano. No, non è vero, tu la carta d'identità la farei ancora nel paese in cui sei residente, però magari per avere un permesso di caccia o di pesca dovrai rivolgerti non so a chi. Oggi ti rivolgi alla provincia, domani non so a chi. All'interno di questo contesto caotico in cui non è ancora molto chiaro niente, le voci che si sentono sono anche ottimistiche da parte di una certa corrente di pensiero. Ad esempio adesso Milano diventerà una città come quella straniera e quindi con tot milioni di abitanti la città metropolitana la porterà a livello di Parigi, di Londra o addirittura più nello specifico si sente Milano adesso non avrà più il problema anche tra un comune e l'altro per i trasporti per esempio, perché con la città metropolitana uno deciderà per tutti e non ci saranno più le diatribe tra un comune e l'altro se la linea passa di qua o non passa di qua. Però a questo punto visto il contesto un po' magmatico sembra un po' tutto utopista parlare già di risolvere il problema dei trasporti o di altro genere. Se noi pensiamo che Milano oggi per quanto riguarda i trasporti ha delle linee che arrivano al suo confine oltre non vanno perché ATM oltre non va se si pensa alle problematiche che abbiamo avuto e che ci sono in provincia solo per poter, anche con Expo abbiamo come esperienza, per poter portare fuori la metropolitana dai confini della città di Milano figuriamoci domani quando sarà Milano, se Milano sarà egocentrica la periferia di Milano di oggi che cosa sarà nei confronti della città di Legnano? Cioè Legnano diventa periferia dalla periferia di Milano oppure Legnano, dico Legnano per dire San Vittore Olona o qualsiasi altro comune Magenta, Biategrasso, oppure queste città diventano veramente parte integrante della città di Milano e allora eliminiamo Milano. Milano non ha più senso di esistere esiste una sola grande città metropolitana fatta da tanti municipi Ecco, ricollegandoci al discorso che stava facendo sul fatto che l'abolizione delle province è stata quasi dettata un po' dai mass media c'è un po' la tendenza a voler partecipare anche un po' alla città metropolitana anche se magari al momento non se ne è compresi è il caso di Bustosizio Bustosizio ha fatto richiesta di entrare in una città metropolitana nonostante faccia parte di una provincia che continuerà a essere provincia Questo tentativo di entrare in un certo senso farebbe pensare che ha dei vantaggi piuttosto che stare nella vecchia provincia è vantaggioso entrare nella città metropolitana ma questi vantaggi abbiamo appurato che al momento potrebbero esserci come potrebbero non esserci quindi forse il tentativo di entrare è dettato proprio da una campagna di chiusura delle province via delle province qualunque cosa può essere meglio anche la città metropolitana sembra un po' così Io non so se... cioè quale sia stato il ragionamento di Bustos nel voler chiedere di entrare a far parte della città metropolitana secondo me partiamo sempre da un difetto del legislatore di questo decreto se il voler creare una città metropolitana come Milano innanzitutto secondo me Milano visto l'importanza quant'altro avrebbe bisogno di una delega particolare cioè delegare la regione Lombardia a costituire la città metropolitana di Milano tenendo presente quali sono le realtà veramente territoriali cioè fare in modo che sia la regione Lombardia a stabilire effettivamente i confini perché è vero quando si dice è assurdo che Busto, Gallarate, Castellanza rimangono fuori dalla città metropolitana quando non ci sono confini distinzioni di confine tra Legnano, Busto e quant'altro è lì che allora tu coinvolgi il territorio e fai capire al territorio l'importanza che ci può essere in una città metropolitana se viene costituita con determinati crismi e viene costituita soprattutto come diceva nella Costituzione iniziale che doveva partire dal basso, quindi dal cittadino quindi dalla richiesta fatta dalle città importanti come Milano con le altre città e non dall'alto con un decreto in cui dice Busto tu non entri nella città metropolitana cioè allora aveva un senso cioè se partendo dal basso come era all'inizio quando era stato modificato l'articolo quinto della Costituzione in cui era stato introdotto il concetto della città metropolitana che doveva partire dal basso, quindi dalla richiesta dei cittadini allora con il CAL, con la regione Lombardia si poteva fare un discorso in cui diceva la città metropolitana deve partire da qua o coinvolgere questo territorio, quest'altro territorio perché magari ha più senso che Busto entri a far parte della città metropolitana che magari, che so io, abbiate grasso che magari sta meglio con Pavia anche culturalmente più diciamo vicino a Pavia o a quei territori Bene, allora per chiudere possiamo definire con molto eufemisticamente la questione in divenire definiamola in divenire per non definirla magari incasinata e vediamo un attimo come si sviluppano nei prossimi mesi le cose con la promessa anche di ritrovarci e di commentare eventuali sviluppi magari con un po' più di chiarezza da parte di chi decide le cose Sì, quello che dicevo prima una cosa importante che ha creato è che se ne parla adesso il parlarne perché della città metropolitana si parla da quasi 20 anni e non se ne è mai veramente parlato adesso se ne parla, ci si ragiona con Sompra e ci si fa delle idee è importante anche che chi forse non se ne sta ancora rendendo conto alcuni sindaci, alcuni territori o quant'altro che si sta facendo un grande cambiamento sta poi alla capacità nostra, amministratori di fare in modo che questo sia effettivamente un grande cambiamento e non sia semplicemente un cambiare nome anziché chiamarsi provincia di Milano, Monta e Brianza chiamarsi città metropolitana oggi è importante che siamo qui ne parliamo per volerlo trasformare spero di non essere qui fra due anni a parlare per è meglio che ritorniamo alle province perché almeno si sapeva Bene, ringraziamo Gian Battista Frattus che è stato gentilissimo e ci ha chiarito un po' le idee per quello che c'è da chiarire visto che la situazione non è chiara comunque è stato gentilissimo e appunto con la promessa di ritrovarci presto caso mai ci fossero dei cambiamenti che chiariscano un po' la situazione allora ricommenteremo insieme grazie Gian Battista